Un cane pronto ad essere adottato, accolto in una famiglia che vuole donargli tanto amore come lui lo dona e lo donerà a questa famiglia. Ma cosa deve fare? A chi si deve rivolgere? Si rivolge al canile Empa Fidolandia di Castelmadama. Siete sui social? Siamo sui social, su Instagram, su Facebook e lì possono tranquillamente scriverci. E ci sarà un incontro, un incontro per capire se la famiglia vuole Pegaso e se Pegaso vuole andare con loro. Assolutamente, di questo non ho proprio dubbi.